Eccoci qui, ciao da Lorenzo. Una volta che avete fatto la richiesta del download della partita riceverete nell'arco di un po' di tempo, a volte è istantaneo, altre volte ci metto un attimo di più, questa mail da parte di Pixelot, dove voi potrete cliccare, cliccando download a video HD, scaricare il video quello con lo zoom e download a video pano, scaricherete il video panoramico, quindi avrete modo di poter avere il video nel vostro pc con le due modalità. Fate questa semplice procedura e poi lavoratelo col vostro software di analisi video preferito. Ciao a tutti da Lorenzo.